Assegnato alla poetessa americana Louise Gluck il premio Nobel per la letteratura 2020, Emiliano Condon. Per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale, è la poetessa statunitense Louise Gluck la vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2020. Autrice di 12 antologie, Gluck ha saputo tradurre in versi un'esistenza tormentata da giovane l'anoressia che la costringe ad abbandonare gli studi, poi lunghi anni di terapia, una costante ricerca dell'anima, la sua tradotta in una lingua di rara perfezione che sa essere vicina al parlato senza perdere profondità. Ne nasce una poesia che vive di opposti su tutti quello tra anima e corpo, spirito e materia, l'isolamento e la solitudine, due dei temi più ricorrenti nei suoi versi. Il riconoscimento alla Gluck, già vincitrice del Pulitzer per la poesia nel 1993, chiude anni tormentati per il Nobel. Lo scandalo sessuale del 2017, il premio saltato e assegnato un anno dopo alla polacca Tokarczuk, poi le polemiche seguite al Nobel 2019, all'austriato Hanke che più volte aveva manifestato simpatia per l'ex presidente serbo Milosevic, morto in attesa di essere giudicato per genocidio. Il rapporto tra l'uomo e le macchine a Trieste... Il rapporto tra l'uomo e le macchine a Trieste... Grazie a tutti.